Io sono convinto che in Italia la terzietà del magistrato sia un valore e voglio che qualsiasi persona convolta in un'indagine o in un processo che si senta garantita dal fatto che sia il PM che il giudice sono magistrati che abbiano una terzietà. Rispetto a questo secondo me io sono contrario alla separazione delle carriere intesa come riforma costituzionale. Ho già detto che secondo me poi possiamo lavorare, già ci sono dei meccanismi che rendono molto lungo il percorso di passaggio da una carriera all'altra perché è questo quello che si contesta. A me fa piacere l'idea che ci sia un magistrato terzo che poi possa svolgere le sue funzioni come PM o come giudice però che si possa lavorare con legge ordinaria per garantire che queste funzioni siano poi separate ma in un unico quadro costituzionale questo per me ho già dato disponibilità a lavorare per migliorare i meccanismi.